Buonasera signori e signori bene ritorno a questo video parliamo un po' del mio canale il quattro dieci corso su me e tre dieci ho aperto questo canale il primo il primo nome è stato con mio nome e dopo è stato cambiato con con technology pro e dopo i vari video andiamo su sull'home page voi trovate quello quello è stato fatto dal mio cugino e lo ringrazio anche per le visualizzazioni ma il video quello l'ho fatto io tutti gli altri sono miei tra quelli della video realizzazione della scritta del mio canale infatti quella la la scritta non ci sono più riuscito a metterla proprio perché avevo dei problemi con youtube dopo le conclusioni no è che ringrazio anche gli iscritti mi ringrazio di essere iscritti e penso a fare proprio anche un un breve video quanto riguarda l'anniversario che è il 14 agosto 2016 cioè non è che penso a fare enormi cose dopo il mio computer negli anni si è anche poi evoluto cioè praticamente abbiamo iniziato con con una disco da 3.20 siamo arrivati a una di Santerra altre enorme cose dopo nel nel l'andare nel tempo si ero togliatore allora l'ho dovuto sentrare non vi dico quante bestemmie potremmo fare adesso vedete praticamente un buco dove i topi possono andare a fare i suoi giochi beh all'idea di quello perchè è un portabile all'idea di quello il computer va bene adesso io ci rieserò solo a mettere un ssd ma stavanti bisogna trovare il tempo per ordinarlo dopo e dopo anche a montare una ram unica cosa è la tostera nell'aprirlo la stelletta anche quello allora bisogna che cambia anche quella ma è vero perchè è vero che quella bisogna che cambia anche il cipad dopo con la rabbia e l'ira funesta ho scoperto una cerniera e vede così ci ritroviamo con una cerniera scavinata una tastiera rotta ma comunque molto frustrante ma basta e no altro niente ciao a tutti i ragazzi cerniera cerniera